Cosa desideri davvero? Cosa ti fa abbattere il cuore? Se potessi smettere di preoccuparti dei soldi, come vivresti la tua vita? Quando troviamo qualcosa che ci piace fare davvero, qualcosa di unico, di nostro, non dovremmo poterci dire facciamolo e basta. Perché se pensiamo che i soldi, i soldi, siano la cosa di cui preoccuparci di più, finiamo per rincorrere qualcosa che costa, invece di qualcosa che vale. Magari, magari, se smettiamo di preoccuparci, cominciamo a sentirci più liberi.